Portano a parlare di flag football perché si è svolto il ball di ritorno del Girone Sud al Velodromo Borsellino, Morrigans Palermo, Pink Elephants Catania e Black Matas Messina. Le Morrigans hanno chiuso questa prima fase di stagione al primo posto, non solo del Girone Sud ma anche della classifica generale, partiranno così con più punti al prossimo appuntamento in programma dal 7 all'8 giugno a Grosseto, nelle bolle finale di F3 dove le tre squadre del Girone Sud incontreranno quelle del Nord, sabato 7 di fatto le semifinali, possiamo definirle così, poi invece domenica 8 le finali per il quinto e sesto posto, terzo e quarto ovviamente quella per l'assegnazione del Boll nazionale. Per il Girone Nord parteciperanno le Ranside di Trieste, le Panthers Parma e le Lynx Arona rispettivamente, prima e seconda.